Tanto il PD chiarisca se è d'accordo o no con la maternità surrogata, quindi con l'utero in affitto per chiamarlo con il termine più corretto. Dopo che ci chiariranno questo capiremo sui diritti se hanno ragione oppure no. Ad oggi nessun diritto viene tolto ai bambini, così come continuano a dire loro, utilizzando proprio questi giovani e bambini per accusare il governo Meloni di togliere i diritti. Loro dovrebbero utilizzare più che altro le cose concrete, le cose vere. Queste non sono cose vere, sono cose false. Ci dicono cosa pensano sull'utero in affitto.